Yukoala è l'armadio condiviso di vestiti per neonati un sito dove è possibile avere un kit di capi per il tuo bambino e che poi quando il bambino cresce viene restituito a cambio di un altro kit, ovviamente con dei capi più grandi ti spiego come funziona questa è la home page nella quale possiamo mettere i dati basici del bambino per esempio in questo caso c'è Luigi Maschio nato l'1 febbraio 2020 nella pagina successiva abbiamo la possibilità già di scegliere il kit dove ci vengono offerte 3 proposte da 12, 24 e 48 capi e per ogni kit ci viene indicato anche che tipo di capi saranno inclusi ovviamente possiamo anche personalizzarlo per esempio scegliendo questo qua in mezzo abbiamo la possibilità di scegliere dei capi per esempio così generici quindi una tutina, un body, delle lecchie e via dicendo oppure possiamo aggiungere in maniera specifica degli altri capi che qua vedi per ognuno dei capi vengono mostrate le misure possiamo per esempio aggiungere e come si vede ogni volta che viene aggiunto un capo vengono sottratte delle foglioline questo è stato fatto per evitare per esempio che uno possa portarsi 24 capi che sono definitivamente quelli magari più cari diciamo così e poi lasciare tutti gli altri diciamo così sul sito dopo aver completato insomma tutta questa scelta si va avanti e qua ancora possiamo scegliere giusto per essere sicuri di misurare l'altezza del bambino per assicurarci che comunque ci sia compatibilità tra i capi che abbiamo scelto e l'altezza del bambino se non siamo sicuri possiamo addirittura scegliere di scaricare un foglio A4 dove praticamente qua metteremo una moneta di un euro e se coincide sappiamo che è stato fatto in scala e dove quindi poi si avrà un piccolo metro per poter misurare così il bambino si mette l'altezza eventualmente si conferma e nella pagina successiva poi si paga ovviamente il sito adesso è sospeso